Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Aspettavo la sigla, non so ragazzi se è partita o meno. Se c'è in questo tatto buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento di buongiorno con noi di oggi martedì 22 maggio 2018, è la 32esima settimana, la penultima di questo ciclo, poi chiuderemo a fine mese. No, dicevo, se in questi giorni ogni tanto vedete qualche incongruenza a livello tecnico, abbiate pietà di noi perché insomma qui c'è un po' di ristrutturazione in corso. Tra l'altro vado subito a presentarvi la graditissima ospite di questa mattina, di questa puntata di Buongiorno con noi, è con noi Nadia Centoni. Buongiorno Nadia, grazie di essere tornata a trovarci. Nadia Centoni non ha bisogno di presentazioni, grande campionessa di pallavolo che ha annunciato purtroppo, dico a me, il ritiro pochi giorni fa. Vi dico subito 360 10 38 330 se volete intervenire, se avete qualche domanda che le volete porre su quella che è stata una magnifica carriera, su quello che farà da grande oppure su altre cose. Perché è anche una mattinata stamani, è vero o no Nadia, che ci sono tante notizie interessanti anche sui giornali, sia a livello locale che no. Tanto sarà la tua presenza, ma stamani credo sia una delle poche volte, non mi ricordo almeno personalmente, che abbiamo un doppio regista di là dal vetro. La coppia Matteo Bedini e Gian Piero Pucci, sono in due addirittura, quindi eh? Cosa avete fatto vedere? Fatemi un po' vedere? Fate vedere? No no, prima cosa avete fatto vedere? Non erano i giornali, cos'era? Ah erano i giornali, sì, erano i giornali. Vabbè Nadia, come andiamola? Come ci si sente? Diciamo, hai annunciato il tuo ritiro, possiamo dire, l'altro ieri si può dire. Sì, ho annunciato il ritiro pochi giorni fa, anche se per me era una cosa già annunciata, pianificata. Ecco, però insomma non è che ci hai pensato lì per lì. No, sono quelle decisioni che non si prendono dalla sera alla mattina, era una decisione che già covavo... Quando l'avevi maturata la decisione, Nadia Centoni, il giorno che si è svegliata oppure è andata a letto e ha detto, sì ora veramente penso che sia l'ora di dire basta dopo una carriera anche lunga, ricca di tante soddisfazioni. Ma in una certa maniera all'inizio, no anzi alla fine della stagione precedente, io ho fatto tre anni in Turchia, alla fine del terzo anno ero abbastanza stanca e volevo quasi smettere alla fine di quell'anno. Poi mi è arrivata questa offerta di tornare a Cannes, dove ho giocato questa stagione, e con l'offerta di tornare a Cannes ho detto no, un altro anno lo faccio, mi riavvicino a casa, conosco il campionato francese, mi permette di fare anche altre cose in parallelo per appunto pianificare un'uscita di scena nella maniera in cui volevo io. Quindi è una decisione che è stata appunto maturata, pianificata, preparata e che già sapevo, io ho iniziato questa stagione a Cannes, avevo parlato con il presidente allenatore dicendogli sappiate che è la mia ultima, quindi nel bene o nel male questa sarà e questa è stata. Io ho avuto la fortuna di fare un bel campionato, di avere una bellissima squadra, un bellissimo gruppo, di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati, però poi alla fine quando mi hanno richiesto, è tutto bene, dai, fai un anno in più, un altro anno con noi, ho detto no, perché sono quelle decisioni che non cambiano. Ma tu mi hai detto una cosa, è bene sentirsi dire dai non smettere, piuttosto che levati... Perché non ti levi gentilmente? No, con qualche espressione esatto, prima che... È meglio vedermi giocare, chiedermi ancora di giocare, piuttosto che, ma quando è che decide di levarsi dal campo? Eh sì, sì, no, no, io gli ho detto prima in un'intervista che poi vi proporremo questa sera nel TG Noi Sport, a parte la trasmissione, brava che hai detto levarsi dal campo e non hai usato un'altra espressione. No, vabbè, senti, hai mai pensato di chiudere la tua carriera qui in Italia, no? E tu in Italia poi alla fine hai giocato pochissimo? No, ho giocato poco e tanto, nel senso che ho iniziato, vabbè, ovviamente in Italia, in club anche importanti italiani, e ho continuato poco alla nazionale tutti gli anni che ero in Italia e anche gli anni che sono stata all'estero. E poi, come dire, mi sono trovata molto bene all'estero, ho avuto sempre esperienze positive, che mi hanno sempre dato stimoli importanti, campionati importanti come il campionato turco, non di meno anche il francese, ma più che altro perché ho giocato tutti gli anni la Champions League e questo mi permetteva un palcoscenico europeo importante e un livello di gioco alto. e quindi la mia voglia di terminare in Italia, sinceramente non ce l'ho neanche pensato, ho vissuto anno per anno quello che erano le mie stagioni, quando mi si è presentata l'occasione di tornare a Cannes, io mi sentivo, tra virgolette, a casa e quindi era l'occasione e il luogo giusto per finire. Ecco, complessivamente 11 anni all'estero. Sì, 8 a Cannes e 3 in Turchia. E sono tanti, stare lontano da casa, lontano dalla famiglia, cioè ci vuole anche una bella forza di volontà, credo, no? Forza di volontà. Paesi diversi, ora a Cannes, vabbè, siamo qui al confine, siamo sulla costa azzurra, ma soprattutto la Turchia credo sia stata un'esperienza un po' particolare, no? Sì, sono due cose completamente diverse. Io ho sempre detto, a Cannes c'è un po' il luogo comune, è vero, sono vicina, perché basta prendere la macchina, la mia famiglia poteva venirmi a trovare o io potevo tornare, però in realtà io sono sempre stata dell'idea che potevo essere anche a 500 metri da casa, però se non stai bene nel posto in cui lavori, nel posto in cui vivi, non stai bene. E sicuramente stare lontano è un sacrificio, quindi nel posto in cui giochi, nel posto in cui vivi, devi stare bene, devi trovare i giusti stimoli, devi riuscire a produrre al 100%, devi vivere bene la tua esperienza, perché appunto si sta lontani. E durante il campionato il fatto di essere vicini non vale, perché le trasferte sono lontanissime, si sta via giorni e giorni, quindi non è facile. Io ricordo il numero per mandare sms, whatsapp, qualcosa sta già arrivando. Lo abbiamo fuori ragazzi il numero? Dov'è il numero? Non si può. Ancora non c'è, quindi ora lo devo ricordare. 360-1038-330, sono prove tecniche di trasmissione, ve l'ho detto, quindi stiamo cercando con questi macchinari nuovi che sono arrivati un po' tutti di prenderci la mano. 360-1038-330, non lo vedete ma funziona, quindi potete mandare i vostri messaggi. Facciamo una cosa Nadia, poi cominciamo a vedere anche qualche immagine di te, entriamo un po' più nel dettaglio di tutta quella che è stata la tua carriera, che è stata veramente molto importante, diciamo solo un numero, presenze in nazionale, tanto per chiarire, se no poi uno può dire ma cosa racconta, quante presenze hai fatto in nazionale? 310-12... Oltre 300 presenze in nazionale? Sì, ora il numero esatto non mi ricordo. Due Olimpiadi? Tre Olimpiadi. Tre Olimpiadi, quali sono state? Atene 2004, Pechino 2008 e Rio 2016. Tre Olimpiadi, insomma, signore, ora io credo che nel Guinness dei primati c'è gente, forse ne avrà fatte 5, 6, non so, forse Josefa Idem che credo ne abbia fatte tante, tante. Posso difendere la categoria, noi abbiamo Eleonora Robianco, la paleggiatrice, che ne ha fatte 5. 5, però è già... Un mostro sacro. Già andarci, dico, già andarci una volta all'Olimpiadi. Vabbè, adesso... Andiamo a vedere i giornali invece, ne dico la questa mattina, il fascicolo con l'inserto della Nazione Lucca, che adesso la regia ci farà vedere, si parla al centro questo titolo di Vittoria. Tommy, cagnolino moribondo, sarà accolto dalla casa di riposo che ospita il padrone. Sono quelle storie un po' particolari, no? Io è che... No, un po' da libro cuore, no Nadia queste qui, che ogni tanto ti fanno riflettere. Sono quelle notizie però che tendono un po' anche a rendere la lettura, la mattina dei giornali o dei social, come facevi te quando eri all'estero, poi adesso ne parliamo un po' più piacevole, perché per il resto... Tanto c'è la vicenda della Lucchese, poi lo vediamo anche nelle pagine sportive, la Lucchese è di nuovo nel caos. E mi verrebbe da dire, facendo una battuta, dov'è la novità, dov'è la notizia in questo caso. Lite sulle cifre, vendita in forse. Stallo tra Moriconi, che è colui che vende, e Grassini, che è colui che compra, sui debiti dei rossoneri. Poi rifiuti si cambia, stop porta a porta, questo per chi abita in centro. e Castellacci, che lascia la Nazionale Azzurra. Il dottore, professor Castellacci, che qui vediamo in questa foto, penso di qualche anno fa, con l'allora commissario tecnico della Nazionale Marcello Lippitato. Tu, Nadia, conosci bene il professor Castellacci, no? Eh sì, perché... E ne ha avuto bisogno. Purtroppo, purtroppo ne ha avuto bisogno, e poi per fortuna mi ha aiutato ogni volta a risolvere problemi nella maniera migliore possibile. Veramente, io non lo scopro io, che è veramente uno dei migliori, io direi al mondo, sicuramente nell'ortopedia è veramente... Eh già, perché per voi pallavolisti, pallavoliste, credo che le articolazioni anche quelle del... Ginocchia, spalle, caviglie. Ah, perché uno pensa poi a una come te che andava su e schiacciava dalla stratosfera, che è la spalla, no? Ma poi ricadi. Sì, e poi saltiamo tanto. Saltate. Saltiamo tanto e l'usura giornaliera. Quali sono le articolazioni più sollecitate? Eh, come ho detto, caviglie, ginocchia, schiena e spalla sono i punti deboli. Beh, anche lui, insomma, è un po' come te, ti ha seguito a distanza di qualche giorno, anche lui si ritira, non si ritira per fortuna dall'attività, però insomma lascia la nazionale, quindi... E anche lui, penso che, insomma, abbia fatto tanti anni... Ha vinto un mondiale, eh? Ha vinto un mondiale, ha fatto un secondo agli europei, poi ha fatto un terzo alla Confederation Cup, e poi ha comportato lo stesso professore Stigio Stio, e beh, ha avuto delle delusioni, perché no? Quello capita, no? E' che si vince sempre. Nelle carriere lunghe ci sta, no? Anche se era capitato. Certo, qualche inciampo sempre. Poi ce le dici, dai, poi ce le dici. Sfogliamo il giornale, allora, raccolta rifiuti in centro, la rivoluzione, arrivano 50 isole lungo strada, contenitori metallici all'interno bigarrellati in plastica da ruotare due volte al giorno. Ci sono i vari commenti che possiamo trovare, soluzione, incenetore, e poi che c'è chi dice invece è come tornare indietro, c'è chi dice sono perplesso, e chi invece dice addio al porta a porta, ok. Svolta solo le abitazioni, riguarda 5.600 utenze domestiche, comune e sistema ambiente, il progetto. Ancora i fatti di nera, violenta risale, caffetteria, licenza sospesa per sette giorni. Pugno duro del questore dopo l'aggressione ai danni di un rom. E poi notizia su questo cagnolino, Tommy torna con il siano padrone, una cuccia alla casa di riposo, accordo tolato grazie alla media del comune di Capannori. Rischia invece di saltare la notte bianca a Lucca, non so se lo sapevi, notte bianca a rischio, costa troppo, e onde non bastano, un'assemblea decisiva o il Palazzo Sani. Comunque l'ultima decisione sarà in questa giornata. La vostra sport del cartario batte in ritirata nel 2017, persi 76,8. Lo intesa San Paolo, tracollo degli affari con gli Stati Uniti. Quindi continuiamo a dire, quando parliamo anche della stessa luchese, qui c'è un polo cartario che rimane con il primo piano, però in realtà c'è stata questa flessione. Poi Eurea funziona, spazio e picco inventò, finale piccolo e concorra a Lucca. Federmeccanica è organizzata a Lucca dalle aziende del soggetto Lumene. Abbiamo già fatto anche nel TG di Iera. Poi c'è stata una grande festa, sport e atleti, grande festa ad Alto Pascio. Andiamo in Mediavalle e Garfagnana. Fusione verso la bocciatura. A Castiglione vince il no, affluenza flop alle urne. L'ultima parola aspetta il Consiglio regionale. Parlava di questa fusione tra i comuni di Castiglione e Garfagnana e Villa Colemandina, ma è già andata poca gente a votare. E poi ha vinto il no, soprattutto a Castiglione. Quindi adesso deciderà il Consiglio regionale, però insomma è difficile che si faccia questa fusione. Il rifugio Marchetti torna a vivere, siamo a Barga, così rilanciamo la montagna, il presidente dell'ASBUC, punto di riferimento dei turisti al lago. intanto, io prima di andare in pubblicità, voglio leggere questo primo messaggio che è arrivato, se mi riesci a aprirlo, non ce lo deve fare. Allora, è Oronzo Miccoli, direttore spettivo della Bionatura Nottolini, che come sai ce ne siamo occupati, ha fatto una stagione molto bella. Buongiorno e complimenti come sempre a noi TV per lo spazio che dedica il Bolle. Un saluto ed un abbraccio alla grande Nadia, la vorrei invitare a Capannori per farla conoscere alle bimbe. E lui fa una cosa proprio in diretta e dice quando. Vabbè Oronzo, ora magari, non so, gli lascio il tuo numero e vi metterete in contatto. Volentieri, volentieri. Gli dici subito di sì? Eh, vedi? Quindi una grande campionessa come lei? No, credo che se lo metti, perché oltretutto hanno, come sai, io penso, tu anche quando eri in Francia o eri in Turchia, mi dicevi, hai sempre, tutte le mattine ti informavi su quello che succedeva da noi, no? Eh, per fortuna parlavamo, esistono i media e i social in questo caso, perché io li seguo abbastanza e ho un modo per rimanere attaccata, rimanere vicina alle vicende che succedono a casa, per non rimanere assolutamente fuori. Io sono, come abbiamo detto, più di undici anni che sono via. Delle volte vengo a casa, mi perdo per le strade, quindi ho bisogno di, ho bisogno di rimanere un pochino vicina con la realtà cittadina, quello che succede e dire che le vostre pagine su Facebook piuttosto che Instagram le seguo e insomma vedo quello che succede. Eri sempre informata. Quindi sai che la bionatura notturinica pannori come vuole che dica Oronzo giustamente, perché è bene ricordare anche coloro che ogni tanto insomma accompagnano e sostengono questa società. Anzi, da valorizzare. Eh, hanno disputato, hanno vinto il campionato di B2, queste bimbe, come le chiama lui, e sono arrivate nella finale di Coppa Italia che si svolta proprio qui a Ligia. Sì, quello l'avevo visto, infatti mi sarebbe tanto per venire, ma ovviamente gli impegni non mi hanno permesso, perché quando ho visto che giocavano la finale a Plata Agliate, la Final Four, mi sarebbe veramente piaciuto vederle, ma ho detto, non mi ricordo in concomitanza con altre partite mie, non so se anche con i play-off, però appunto l'ho vista, la notizia, ho detto, accidenti, facciamo qualcosa a Luca. dobbiamo fare i complimenti a questa società, a queste ragazze, all'eterno, all'erno si può dire così, Sandro Pecheroni, che è lì veramente, da una vita, e niente, giocheranno il campionato di B1, è una bella realtà, magari se un giorno riusciranno ad avere la missione con Capano, è anche uno pazzo, più, insomma, hai visto la Coppetta, poi sono dovuti, sono dovuti venire a giocare a Luca, ma il problema degli impianti, proprio un problema, e io voglio ripartire da qui con te, perché vista la tua grande esperienza anche all'estero, voglio capire se dall'altra parte del mondo, a da che possano più o meno, più o meno criticarci, giudicarci, in un certo modo, non italiani, se è diversa la realtà anche degli impianti sportivi, perché qui si fa un bel parlare di tante cose, si vorrebbero vincere i campionati, si vorrebbero vincere le olimpiadi, si vorrebbero fare tante cose, però quando poi non si costruiscono le vasi, che è una delle vasi fondamentali, credo sia la possibilità di avere degli impianti dove fa giocare le bimbe, in questo caso della palla a volo, ma insomma in tanti altri sport, allora credo che vengono proprio a mancare le premesse, no, per tutto questo, dai. Stiamo da qui con Nadia Centone, poi vediamo tante tue immagini, perché insomma, è sempre, guardi ogni tanto le immagini, per se guardi. Eh, guardo, le riguardo, le riguardavo anche durante, le volte, perché mi servivano alcune immagini di riferimento, per capire cosa facevi più. Perché quando sei, diciamo, all'altro livello, devi studiare tutti i dettagli, devi studiare il centimetro, perché le differenze fanno i centimetri. Va bene, adesso noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria, poi se, se riusciamo a tornare in onda, ci ritroviamo, no, no, scherzo con i ragazzi di là, se riusciamo a tornare in onda, ci ritroviamo a poco. Allora, eccoci tornati, ce l'abbiamo fatta, no, no, sono, eh Nadia, sono, prove tecniche, sono prove, no, sono bravi, sono in gamba ragazzi. Sono bravissimi. Beh, d'altronde, quando, quando si 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 a fare con della strumentazione, con dei macchinari nuovi, all'inizio, è, è sempre un po', un po' complicato. Senti, parlavamo degli impianti sportivi, poi dopo andiamo a completare anche la rassina stampa. Tanto appena la regia è pronta possiamo vedere anche qualche immagine di Nadia, allora com'è la situazione negli altri paesi? Tu sei stata in Francia, sei stata in Turchia, da noi, lo dicevamo prima a proposito da Nottolini, purtroppo non è una situazione sempre, è importante. Il problema degli impianti penso che sia un problema un po' comune a tutti. Universale, diciamo. Sì, almeno per i posti in cui sono andata c'è sempre il problema di spazi, non ci sono abbastanza spalestra per i vari sport, perché alla fine non si parla più neanche solo di pallavolo, e quindi è sempre un po' una guerra, una guerra anche intestina fra società, all'interno della società per avere spazi per le prime squadre, per i giovanili, perché c'è sempre bisogno, c'è sempre più bisogno. Capisco che sia difficile ogni volta investire in impianti. Questo anche al Can? A Can un po' meno, ma anche lì avevamo una presidentessa che è stata molto lungimirante, negli anni passati è stato costruito un palazzetto da 4.000 posti che per assurdo in certi momenti è anche troppo grande. Dopo fare degli eventi importanti è la struttura giusta, quindi adesso qui ci sono immagini... Il numero 9, mi spieghi perché è il numero 9? Ma allora, in realtà il numero... Cosa sono gli ultimi mondiali? Queste sono immagini, mi sembra, dei mondiali o di un Grand Prix che abbiamo giocato nel palazzetto a Bari, questo con una nazionale. In nazionale ho sempre avuto il numero 9 un po' per caso, perché sia nazionale non è che ci siano dei numeri... Una volta che hai il tuo numero poi lo mantieni sempre quello, ma arrivi da piccolina e prendi un po' il numero che trovi, Perché in realtà io ho sempre giocato con noi, c'è tra l'altro notizia di ieri... 13! Che ho saputo ieri, tra l'altro fresca fresca, che hanno ritirato la mia maglia è il numero 13 di Alcane. perché lo si fa per i grandi, eh? Eh, ma infatti io sono rimasta stupefata, sfida, onorata, perché veramente... Questa è una notizia che ci dai in assoluto anteprima. Sì, 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 è una notizia di ieri, ma è più il numero 13. È stata di Nadia Cento, però ho anni a Canse. Ho vinto 8 club di Francia, 7 scudetti, ho fatto due Final Four di Champions League, un secondo e un terzo posto, un migliore attaccante nel 2009. No, a Canse sono anni molto proficui, diciamo appunto, sia personale che di strada. Can, numero uno in Francia come squadra? Sicuramente. Numero uno in Francia? Come Palmaresse, la squadra che ha vinto di più, non so... Cioè, prima ancora dell'avvento di Nadia Centoni c'era già una grande tradizione. C'era una grande tradizione e è uno dei motivi che mi ha spinto a cercare quella squadra quando mi hanno chiamato nel 2007. Io sono rimasta abbagliata proprio dal dire mi hanno chiamato, devo correre, cioè non aspetto altre proposte, nient'altro, era un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela a scadere. Cosa vuol dire giocare più di 300 partiti in nazionale? Ora parlo della nazionale perché ti stiamo giustamente vedendo. Tanto giocare in nazionale penso che per un italiano o per un'italiana che se ne dica quando si parla della nazionale di calcio sia un motivo d'orgoglio enorme, una situazione immensa. Dai, io ora... Sentire l'inno nazionale. Io ora ho maggior ragione perché smetto, quindi possiamo immaginare l'emozione ma anche nel rivedere certe immagini e nel riparlarne. Pelle d'oca, la pelle d'oca sempre perché quella maglia è una maglia speciale, ti fa vivere emozioni speciali e poi, non lo so, è un modo di vivere che non hai nei club e qualcosa veramente di importante. D'occhi lucidi, eh? D'occhi lucidi, d'occhi da pelle d'oca. E quello che vivi quando giochi con la nazionale lo vivi in un certo modo questa domanda che ti faccio? Anche quando bocchi all'estero, quando sei comunque all'estero, è vero, sei sulla costa azzurra però sei sempre in Francia, non sei in Italia, sei in Turchia ancora di più. Lo vivo e forse ancora di più in quei momenti difendo io ho i colori di una maglia di gente ma sono italiana, difendo il mio essere italiana, la mia pallavolo, il mio modo di vivere che è italiano al 100% e se ho giocato all'estero e se ho avuto la fortuna di essere, insomma, di essere stata cercata in questi club è probabilmente al di là di quello che potevo essere io come Nadecentoni proprio perché avevo alla base una tradizione forte, una squadra italiana che mi ha permesso di diventare quella che sono quindi sicuramente è stata una cosa importante la nazionale e la scuola di pallavolo italiana, i nostri allenatori, le nostre società sono società che indipendentemente parlavamo prima di strutture che mancano, che sono deficitarie, è una struttura e una materialità importante che costruisce delle belle giocatrici, non parlo solo di me, no, personalmente ma proprio in generale, la scuola italiana come allenatori, preparatori, giocatrici è riconosciuta in tutto il mondo, è universalmente riconosciuta. Sai che l'amico Walter Nieri proprio adesso ragazzi vista la situazione non gli sto a chiedere le immagini perché gli faccio un pazzire, no, tranquilli, non vi chiedo niente, proprio la settimana scorsa, due settimane fa da noi al club ci sono accanto io terzo di Gragnano ci sono stati ospiti Elisa Tovuto e tra leggeri tra leggeri capitano nazionale per tanti del mondo e due avevo visto anche quello che ha messo le notizie su Facebook si, si ho visto è stato l'amico Nieri ha voluto dare spazio a queste ragazze della Volo è stato un bel momento perché non ci dobbiamo dimenticare che fa tanti sacrifici spesso vinciamo spesso sono anche dei momenti in cui non abbiamo tante vittorie e in questo momento magari non siamo forse al top però giusto ricordare che il mondiale abbiamo vinto nel 2002 giusto ricordare che queste ragazze hanno fatto andato in là al movimento e quindi io ne parlavo prima quello che era successo con i maschi negli anni 90 si ma ne parlavamo prima ho avuto la funa di giocare anche il mondiale con l'Italia nel 2014 è stata è stata un'esperienza meravigliosa dove tu io credo non so magari mi sbaglio ti si è espressa forse non dico come non mai ma sicuramente hai giocato un campionato del mondo formidabile come ho detto prima rimane tra ti siete trascinato 16-18 mila per una partita di pala a volo stiamo parlando di un palazzetto che è una cosa sì è stata io l'ho definita una cavalcata vincente anche se è finita senza una medalla perché abbiamo fatto il mondiale è una manifestazione molto lunga siamo partiti dalle partite di Roma poi siamo a Bari e siamo qualificati per la fase finale in tantissima a Milano al Forosago e in questi tre pazze vi giuro non c'è posto neanche per una mosca era una roba curiosa non ho mai visto i setti così pieni tanto sia anche la televisione quindi vuol dire che siamo usciti anche qualcosa di grande gli spettatori tutti quelli che seguono la lavora è stato penso un veicolo promozione come Giumbi la visita è davvero formidabile perché poi quando certi finiscono la pagina le bimbe che seguono le piccine vanno a giocare a pallavolo si appassionano è così è così io ho la rassegna stampa locale che invece da cosa è letto meno bene purtroppo io mi domando perché però stazione ferroviaria si parla della stazione ferroviaria di Cano in altri posti non finirei poi qua potrebbe offendersi stazione ferroviaria allarme dado crollate lettoie sporcate sale cibo disseminato per reti di sicurezza per i viaggiatori ecco il obiettivo da visita Ducca la facciata scostata caserma in abbandono della polvere denuncia giardinati come bagni ogni altro commento che sia superfluo per richiare chi è che deve intervenire chi è che dovrebbe escire chi è che dovrebbe fare tutto questo nel 2018 ormai avanzato lo avviscono in 10 locale chiuso del questore nei confronti appunto di questo locale di Viale Puccini la lite iniziata all'interno del bar la vittima ha portato la frattura del naso rifiuti rivoluzione in centro spalporta a porta ecco il cassonete e tec poi queste sono notizie ah ci sono i 125 anni della Croce Verde questi magnifici 125 anni centinaia di persone alla serata celebrativa al cinema moderno sicurezza qui siamo a Capannori due agenti in più orario lungo e telecamere mentre cresce l'allarme furti il comune presenta le sue contromisure i progetti saranno illustrati nel consiglio comunale chiesto dalle opposizioni andiamo a Viareggio dove si parla invece di violenza a scuola tu penso eri sempre a calma avrai sentito la vicenda anche qui del rettici Carrara purtroppo ne hai sentito parlare insegnante aggredita nuova interrogazione la stessa sarà risentita sabato alla presenza di testimoni la professoressa ha chiesto che ci siano anche un collega che è il dirente scolastico poi il solito incidente stradale si schianta in moto contro un camion trentenne tanto al corriere Bartolini sull'Aurere viene portato in elicottero a Pisa è grave a Villa Paolina qui siamo a Viareggio un festival dedicato a Percy Schilley da 3 al 9 giugno una rassegna dedicata al poeta inglese che morì a Viareggio e poi attenzione andiamo sul lago di Massaciuccole anche qui purtroppo l'altra domenica è stata una tragedia come ricorderete però qui si parla di questo pescione pericolo pesce siluro i pescatori ben lo conoscono gli appassionati di pesca SOS sul Massaciuccole perché pericolo pesce se è mica pescatrice anche no perché questo pesce siluro è pericoloso i pescatori del lago lanciano allarme e dicono sta mangiando tutti gli exemplari questo pescione qui si mangia tutti gli altri l'esperto del parco di San Rossore ammette che non esistono misure contenitive cioè per arginarlo per contenerlo un po' quando tu andavi su che schiacciavi come facevano a contenerti poi chiusa anche l'ultima attività al mercato ma noi restiamo qui l'occupazione simbolica dell'associazione Mangi Chi Ha Fame lasceremo la nostra sede solo se costretti con la forza e poi c'è il palo dei micci a Querceta c'è un po' un resoconto di quello che è stato il palo dei micci che vi ricordo noi tv vi ha trasmesso anche quest'anno in diretta i bianconeri così abbiamo fatto la storia i bianconeri perché ogni contrada ha il suo colore la quercia che ha questi colori racconta il segreto del suo successo ci alleniamo ore ed ore anche senza passport e quindi magari non è un caso che poi questi riescano sempre a spuntarla tra l'altro l'albo d'oro delle contrade ci sono 19 vitale del pozzo e 8 della quercia qui comunque questi della quercia mi sa che hanno preso di mila pozzo poi andiamo per concludere a seraveta boschi abbandonati i paesi della montagna a rischio a rischio idrogeogico il consorzio deve intervenire a fabbiano al posto dei privati ma sono sempre di più i terreni dimenticati e pericolosi senti quanto sembra superfluo però fra un minuto andiamo in pubblicità ora parlando di questi ragazzi del palo dei micci dicevano vinciamo perché comunque facciamo sacrificio ci alleniamo è un po' il segreto di Pulcinella ma è quello che conta poi anche nella vita e nello sport credo tanta passione tanto sacrificio tanta forza di volontà tanta applicazione tanto metodo in tutte le cose quando si vuole vincere bisogna intanto avere ben chiaro un obiettivo e poi per raggiungerlo bisogna avere non te l'ho mai chiesta quando sei venuta alle altre volte ma quanto ora ti posso dire tanto il verbo quanto ci sei quanto ti allenavi cioè perché qui si parla poi dipende dai livelli questi grandi livelli di palla a volo quante volte vi allenavate la settimana tutti i giorni mattina e pomeriggio tutti i giorni mattina e pomeriggio c'è il giorno libro due partite sempre e può esserci una mattina libera durante la settimana ma c'è una mattina libera in genere che viene occupata da varie tecniche preparazione della partita video personali della scuola avversaria perché c'è tanto lavoro sulla scuola avversaria quindi parte il lavoro che fa la palla pomeriggi e il lavoro di tecnica individuale pesi in palestra la mattina tutto i mattina quindi è un lavoro piuttosto diciamo bello comunque facevi quello che ti piaceva quindi quando uno fa un lavoro che gli piace penso sia già una persona abbastanza fortuna però insomma era impegnativo direi è un lavoro come tutti gli altri sicuramente un lavoro come hai detto te fortunato perché fa una cosa per cui hai una passione una grande passione che ti fa passare al di sopra dell'essere lontano di non vedere mai il marito di non vedere mai la famiglia però è una cosa che ti dà tanta gratificazione insomma per chiudere il discorso nazionale la più grande soddisfazione nazionale al di là di quel mondiale che pure non avete vinto la medaglia ma guarda la nazionale già solo mettersi la maglia anche per il primo allenamento è una grandissima soddisfazione e deve essere l'obiettivo di ogni giocatore come ti ho detto prima è difficile trovare un momento bello un momento solo perché ce ne sono stati tanti la conquista per esempio delle olimpiadi di per sé è un risultato che è eccezionale già andarci bravo e delle olimpiadi qual è che ricordi di più delle tre che hai fatte probabilmente la prima perché era la prima a te nel 2004 è la prima sei giovane è la prima esperienza veramente importante è tutta una scoperta non dico che dopo già sai però in realtà si le hai già fatte anche Pechino penso sia stata un'esperienza mica male anche Pechino perché erano già con le mascherine quando andate l'inquinamento se ce lo fanno per precauzione secondo te non è solo precauzione poi l'inquinamento c'è un attimo quindi si respira veramente male e poi l'ultima a Rio a Rio c'è una terza quindi una maturità differente ci siamo arrivate in maniera difficoltosa perché la qualificazione è stata vicinissima aveva una squadra probabilmente rispetto ad altre occasioni almeno per quanto mi riguarda probabilmente meno forte quindi l'aspettativa anche di risultati era diversa era minore però solo il fatto ti ripeto quando raggiungi la qualificazione e sai che andrai all'Olimpiadi è una è grandissima è bellissima in particolare Sud America quindi come raccontava Albano Albano Pera sì che in realtà c'era il rovescio della medaglia c'era il rovescio della medaglia anche a Pechino queste megalopoli quando te fai la manifestazione ti sembra tutto pello è dove è venuto poi è chiaro che quando esci dalle strade olimpiche si chiamano in realtà così la realtà è un po' diversa Albano ci raccontò l'episodio che prese questo taxi e per andare al posto vedeva che questo taxi faceva strade un po' strane ma non le faceva per guadagnare di più le faceva perché per entrare in certe strade aveva proprio aveva proprio paura come ci raccontò questo episodio sì c'era un accordo tra i gruppi e polizia di va bene sono arrivati altri messaggi ci fermiamo e come sempre torniamo tra poco ancora con io spero torniamo tra poco eccoci tornati mi sta appuntando il nome capisci quello che ho scritto Nadia no sarebbe il nome dell'ospite di domattina perché altrimenti ormai mi devo cominciare è preoccupante mi devo cominciare a segnare le cose va bene è arrivato un messaggio molto simpatico ci manda sempre Oronzo Niccoli ti chiede dice Oronzo sono sempre Oronzo chiedi a Nadia che se probabilmente stava ascoltando il fatto degli allenamenti che se vuole se vuole a Capannoli la facciamo allenare molto meno si accetta di fare un anno poi mette tutte le facchine va bene così no però insomma gli hai detto che più volentieri le vai a trovare le vai a trovare per parlare vi accorderete sì sì no Oronzo purtroppo non ti possiamo illudere vabbè andiamo a vedere i giorni nazionali chiaramente in questi giorni c'è molta attenzione per quello che succede se nasce questo nuovo governo o meno no Nadia e quindi anche oggi la prima parola della sera vediamo che l'apertura è Movimento 5 Stelle e Lega al Colle Conte Premier beh ora qui c'è chi ha fatto le battute Conte naturalmente non c'entra nulla col Conte allenatore di calcio questo è un professore anche molto molto quotato Giuseppe Conte si chiama molto apprezzato qualche qui c'è sempre le solite critiche ma non è un politico vabbè Di Maio sarà un governo politico dice comunque il leader del 5 Stelle paura di riflessione di Mattarella oggi niente in carico parla anche Conte la richiesta del professore mi serve autonomia il giurista verso Palazzo Chigi poi le domande prima parlavamo di social non Nadia le domande che Bruxelles deve fare al mister Facebook Zuckerberg vede i vertici del Parlamento su utenti e privacy crash spread scontro di Salvini con l'Europa il differenziale più ora quota 190 ecco come ci vedono ora al di là della palla a volo tu hai vissuto in Francia hai vissuto tre anni anche in Turchia come ci vedono noi italiani che idea si sono fatti di noi italiani ma sai in realtà all'estero passa quello che i giornalisti fanno passare quindi dipende molto dalle notizie che vengono pubblicate seguite siamo molto seguiti però c'è sempre molto interesse per quello che succede in Italia quindi come adesso guardi tutte le notizie giornaliere loro lo fanno ugualmente di noi sono molto interessati a quello che succede a livello politico a livello economico perché gli interessi probabilmente anzi senza probabilmente gli interessi che sicuramente circolano con le aziende italiane sono tanti sia in Francia che in Turchia ovunque perché il Made in Italy è veramente un marchio di garanzia di qualità all'estero e quindi sono molto interessati a quello che succede perché probabilmente guardano con preoccupazione se gli eventi non sono positivi e con attenzione per seguire quello che succede nella nostra economia mi dicevi per distacco ma proprio per distacco il personaggio più di gran lunga più popolare è Berlucone probabilmente per le aziende che ci sono state di vario titolo ora io lo so non è che segua così dentro le vicende politiche su Berlucone ci hanno già fatto tre o quattro film vuol dire che insomma però sicuramente è uno dei più volari dei più conosciuti un personaggio come tale c'è poi può essere più o meno simpatico più o meno criticato quindi sicuramente uno dei nomi che se parliamo di Italia sono dei nomi che associano più con l'immagine dell'Italia poi uno potrebbe se questo è un bene o un male però vabbè colpo di freno quotidiano nazionale torniamo sui giornali colpo di freno governo Ari Conte Mattarella prende tempo perplessità dei ministri tensione dell'Unione Europea spread tale a Firenze a Capulma 14 turisti feriti le piante erano state controllate due anni fa lavoro 40 anni dopo consultori obiettori le falle della legge 194 boom delle pillole riparatrici e poi Mosca fa paura attenzione per quanto riguarda la politica estera un manuale per gli tedesi preparatevi alla guerra cosa vi dobbiamo dire non lo so poi si parla di Italia io di Italia mi scalia il coraggio di Benedetta per battere i vabbè torniamo a Nadia non so se poi hai altre immagini da vedere o meno Nadia a livello DEB sei partita colì ma non è hai cominciato a giocare non eri proprio non eri proprio lì avevo 13-14 anni ma facciai cos'altro prima faccio un'etica a scuola ero in base atletica per essere una grande cenata ad esempio penso si ostacoli ah ostacoli ostacolisti si e l'ho continuata a fare tra virgolette una scuola con la scuola fino anche a che ho giocava che era un quale ore quindi speri però gioventù tutto si può fare tutto si prova a fare dopo cominciò con la pallavolo perché l'idea di uno sport di squadra era la cosa che piaceva di più avere delle compagnie anche con cui condividere gli allenamenti fuori intorno ai tempi liberi sicuramente lo sport di squadra in un momento adolescenziale ti consente di vedere le cose anche in un'altra maniera ti dà più sicurezza anche il tiro a una ragazza abbassimile molto intro e mi ha permesso di molto il fatto di stare con altre ragazze della mia età o più grande quindi anche di stare con il mondo come si vivevano quello che facevano sono il momento magari può stare in un gruppo se non sbaglio insegna anche a rispetto degli altri anche delle regole di una città disciplina sicuramente sicuramente disciplina rispetto degli altri delle regole degli orari rispetto delle avversarie rispetto anche per se stessi perché e ne ho scelto la pallavolo che comporta più di diverso perché mai mai avevo pensato che sarei stata un'attrice nazionale o farne della pallavolo il mio mestiere per arrivare alla scuola a stare e ben o mai che sarei in famiglia fin che ho potuto ho cercato di ammoccare anche che ne so a Vistoria piuttosto che a Firenze ma rimando sempre a Luca torno sempre a Luca perché mi avevano insegnato la mia famiglia a stare sei legata alle tue radici ah certo e questa è importante da ragazzina non hai occupato di stare in dici anni mai 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 e mai mi hai allontanato così tanto e star fuori così tanto qualcuno a parte te stessa e madre natura che ti ha dato il fisico e la possibilità di giocare a certi livelli c'è qualcuno che hai detto basta che pensi di dover ringraziare in questa tua lunga carriera guarda sono quelle cose lungo l'elenco no forse è un luogo comune però sicuramente i miei genitori e quello che attualmente è mio marito perché in realtà sono le persone che mi vedono e mi conoscono tutti i giorni e sanno quello che io provo e poi in realtà le persone fuori ti vedono magari vedono giocare magari ti vedono sempre sorridente però non sanno quello che c'è dietro ti vedono solo in quel momento in quel momento però c'è tutto il resto ci sono tanti momenti in cui anche determinate scelte che ho fatto in passato la scelta ad esempio di partire e andare via dall'Italia sono stata una delle prime italiane a uscire a fare un campionato estero e sono accertante il primo anno che sei andata via che anno è? nel momento in cui il campionato esterano era l'apice che mi è costato quell'anno anche la nazionale perché l'allenatore nazionale mi ha detto non giochi più nel campionato italiano non abbiamo poi spero che le cose siano cambiate l'anno dopo ho fatto le Olimpiadi a Pechino il discorso era non giochi più in altri sport succedeva anche nel calcio sono quelle scelte importanti poi sono anche scelte contingenti adesso un discorso del genere sarebbe assolutamente fuori epoca fuori perché adesso tutti i giocatori vanno all'estero fanno esperienze all'estero nel calcio in una polla a volo tu sport poi ci siamo puoi vedere ma forse anche allora potevi vedere se Naria ci giocava bene se è in forma o meno perché i tempi adesso sono cambiati però in quel momento ho una scelta un po' radicale rivoluzionaria all'estero ti costò cosa? il primo anno nel 2007 è stata la prima stagione che non sono tornata con la Nazione Pechino però sono sei stata una delle prime ad andare all'estero sì una pioniera una pioniera ti senti una pioniera? un po' sì perché sono andata un po' controcorrente no la settimana scorsa avevamo qui l'amico Giovanni Mosca John Larson no Gian Piero John Larson questo personaggio che ha scritto questo libro che è andato a ricercare le sue origini di suo papà lui è nato durante la guerra suo papà era americano ha trovato che la sua famiglia d'origine il suo papà era nell'Ujuta e quindi raccontava che proprio la famiglia di suo papà era una famiglia di quelle che avevano attraversato gli Stati Uniti alla conquista della conquista dell'Ouest no? quindi e vabbè e quindi niente comunque penso che sono tutte esperienze che arricchiscono queste da un lato umano non solo al di là della palla a volo credo no? quando fai questo tipo di viaggi di rienti di campionati c'è un devi avere innanzitutto un grande spirito di adattamento quindi già solo adattarsi alla lingua al mangiare al paese alla mentalità è un'esperienza che ti arricchisce perché conosci cose nuove conosci cose che non questo penso sia valso vaga soprattutto per i tre anni in Turchia perché è vero che in Francia dicevi alla Francia poi sulla Costa Azzurra diciamo ma in realtà anche in Francia perché ti ripeto eravamo a Cannes io so Cannes però il campionato è tutto il resto la Francia la Francia è grande mi viene a pensare che Cannes il Principato di Monaco Nizza che una volta era italiana mi viene a pensare che comunque sia come Italia al di là che comandano giustamente e non vi vogliamo toccare la Costa Azzurra la prenderemo volentieri amici francesi però non ve la posso però so mi sembra che siamo quasi in Italia in Turchia in Turchia in Salta è più grande è veramente un altro mondo in Salta è più grande in Salta è parata un po' di turco in Sirino perché per me comunicare è fondamentale quindi sono arrivata là parlando inglese e francese italiano ovviamente e le mani e le mani perché loro non ce l'hanno questo i turco sì infatti mi sono trovata bene e poi un pochino di turco perché come dicevo volevo anche capire un pochino di più volevo completare anche quella che poteva essere la mia esperienza all'estero imparando anche un po' di turco metto che è difficile quindi non ho imparato proprio le basi quello che mi serviva lingua un po' complicata per noi sì come credo per loro sia imparare l'italiano sì è difficile te pensa la cosa strana dici vabbè l'arabo vabbè se non siamo già un po' più lontani i paesi dell'oriente come la Cina il Giappone la Turchia tutto insomma è un paese anche abbastanza vicino all'Europa da capire se che c'è sempre un contenzioso Europa o non Europa mi sembra questo è un giudizio personale poi tu lo puoi dare meglio perché ci hai vissuto mi sembra che per tanti motivi è geograficamente vicina all'Europa però forse non lo è tante la Turchia di Turchia mi sono fatta che vende un ponte tra l'Europa e l'Oriente non soltanto un ponte di questo posto no proprio in generale è un paese che è un paese molto saggio tra tanti tra tanti tra tanti posti di tanta storia perché la europea è arrivata comunque è arrivata vuol dire Istanbul è romana quindi è importante la paese italiana adesso dico italiana ma c'è questo incrocio con tutto quello che è l'Oriente e quindi quindi un'entità che però a un certo punto è difficile è ovviamente di passaggio io ho ovviamente un paese ponte un po' tra l'Oriente lente ultima pausa mattina di tempo volato vi siamo già alle 9.17 torniamo a Chiriani suivi mi ricordo se la tua volta ti chiedi se al di là del lavoro hai altre passioni sportive lo scopriremo tra poco dì nella regia 9.18 siamo agli ultimi minuti di questa puntata di Buongiorno con noi in compagnia di Nadia Centone allora Nadia arriva altro messaggio andiamo a leggere credo che sia Gao Gao è un amico di Buongiorno con noi che ci scrive spesso penso che sia lui Gao se sei te dammi conferma un saluto alla grande Nadia dice la prima volta di te mi parlò proprio Casotti per non tornare amichevole a Luca quando giocavi a Novara non lo so hai giocato a Novara cosa nell'Asist Novara il mio primo anno in Serie A1 ho capito vedi che buona memoria no no ma io credo che sia Gao a parte non si è firmato ma perché veramente Gao ci siamo sentiti la mattina per telefono è un conoscitore un profondo conoscitore di tanti argomenti quindi vabbè quindi niente hai visto anche altre città italiane altre ho giocato a Novara a Pesaro a Padova a Vicenza in Italia vediamo se allora no questa si è Gao domanda per Nadia quali sono le tue giocatrici preferite alle quali ti sei ispirata forse quando hai cominciato se ci avevi un punto di riferimento allora quando ho proprio cominciato avevo Vello io sono stata sempre una grande saltatrice è stata la mia fortuna il ruolo era opposta opposta quindi un attaccante che attacca antipallone durante le partite sia quando sono sotto rete quindi in prima linea sia quando sono dietro abbiamo visto prima facevi tanti punti durante una partita lo poteva fare come c'entra avanti nel calcio il cannoniere il mio modello sono due giocatrici cubane Dario Luiz e Dario Milka Ruiz perché erano giocatrici erano due sorelle no 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 due giocatrici cubane non sorelle di epoche differenti tra l'altro ma che la mia rex che ha che ha lo stesso cognome mi hai capito Milka Ruiz e Luis e l'altra con la quale ho giocato spesso le giocherie le quali mi inspiravo e invece chi sono le tue amiche tanto si si ma premisca a 9.20 poi dopo tempo per chiudere Nadia chi sono le tue amiche nel mondo del volley una particolare Antonella Delcore con la quale sono legata dagli anni della pre-unione quindi da quando eravamo bimbe è sicuramente la compagna di avventure di squadra nonché compagna di camera la Delcore ora gioca sempre lei? no ha smesso di fare adesso ha avuto un bimbo e quindi di dove è questa ragazza? di Napoli Napoletana gli stati europei non dovrebbero interferire negli affari politici interni in particolare sulla costituzione del nuovo governo si permettono di dare giudizi prima ancora di vedere l'eventuale nuovo governo all'opera auspico che il presidente dia consenso al governo lega queste il programma è veramente innovativo e rappresenta la volontà della maggioranza dell'elettorato ma proviamo e solo dopo si potrà giudicare perché no? perché no Rita? Rita da Lucca che salute sei tornata a Lucca mi sa Rita adesso questa non era per me no non era per te però siccome abbiamo parlato poi questo questa è la domanda che gli avrei fatto a un fondo però ci anticipano poi diamo un'occhiata anche ai giornali attivi allora cosa c'è nel futuro di Nadia allora la domanda è cosa c'è nel futuro di Nadia oltre il volley allora intanto cominciamo dal volley perché insomma stasera avete l'intervista nel Ticino e Sport che abbiamo fatto con Nadia a parte la trasmissione Nadia vorrebbe restare nel mondo del volley è stato il mondo per tanti anni e vorreste rimanere no? è il mondo che conosco meglio è il mondo che mi ha dato tanto e spero che continui a darmi tanto e io a dare ancora il volley io vorrei rimanere vicina al campo prima ho preso il diploma per preparatore fisico questo inverno tramite la federazione il CONI e adesso la preparazione fisica è diciamo è l'ambito che mi attrae più che mi stimola di più tanti mi hanno detto ma perché non vai a allenare non fa allenatore probabilmente in un futuro attualmente mi fermo insomma voglio approfondire un pochino di più l'argomento fisico che è un argomento che mi sta molto a cuore perché lo conosco da vicino sia per esperienza personale sia perché preparazione fisica specifica per la pallavolo della quale penso di saperne parlare quindi rimarrò vicino al campo e al di là della pallavolo questa è la domanda che ci faceva l'amico Giulio? e al di là della pallavolo tanto c'è una famiglia adesso no? intanto la carriera adesso è chiaro che magari ho il pensiero anche di allargare la famiglia ho capito ho capito prossimamente ho capito Gao che è un grande perché non c'erano dubbi non per essere un ruffiano ma Nade è una tra le più simpatiche nel mondo della pallavolo qui un po' ruffiano sei Cristiane Furst non so se lo ha detto Cristiane Furst è un'amica un saluto da Gao Gao conosce anche Cristiane Furst ma sei una cosa incredibile è un intenditore sì sì ma Gao è un intenditore è un appassionato la conosco perché ci ho giocato tante volte contro è una centrale tedesca della mia età credo forse qualche anno più giovane contro la quale ho giocato tante volte non la conosco personalmente però come avversario ci siamo incrociati tante volte una brava giocatrice e brava persona sicuramente allora risetta dello sport vediamo un po' in primo piano cosa c'è al centro Ronaldo lancia operazione grande Inter il brasiliano Spalletti o Martello e Cardi Pofaglio insomma l'Inter che è riuscito l'ultimo tuffo a trovare la qualificazione alla Champions League poi la Juve Allegri avanti Gorin Forzi Morata e Godin in lista Milan a caccia di attaccanti Immobile e Belotti ieri sera c'è stata la partita vedi non sei la sua dell'addio di Pirlo dal mondo del calcio Pirlo il mondo a San Siro e poi il ciclismo oggi c'è la cronometro Lovereto Dumoul venta l'assalto alla maglia rosa di Yates quotidiano sportivo regalo di Coppa sempre l'Inter grazie agli introiti Champions l'Inter punta decisa al rinnovo di Cardi mentre Buffon invece è uno che non ne vuole sapere di ritirarsi pare che andrà al Paris Saint Germain e testimonial di Qatar 2022 vado un po' di corsa ecco qua ci risiamo Lucchese Grasini a vittura scrive il pen in questo pezzo di Luca Tronchetti da Dio intro di 4 ore studio delle gale di Iconi formulato una nuova offerta visto quindi ci dicevano che era tutto fatto questo bonifico arrivò in realtà probabilmente sono successe altre cose per cui Al Gornetto Limited disposto a sborsare un euro il bonifico non arriva il direttore di Chesi nelle prossime 48 ore farà verifiche contabili c'è anche Festellacci che saluta la nazionale tornando alla Chesa l'ario nella peggiore ipotesi questo se salta tutto le chiavi club riconoscere al sindaco eh vabbè cioè vabbè poi ci sono molti giocatori versiliesi che giocano dalla Serie A fino alla RC dove i canonini e il remunto di pari dei Pieraccini capitano di Pisa sostituito a Viterbo la punta del Gavorrano sbaglia un calcio di rigore mentre per quanto riguarda la salvezza della Spal anche la mano di Gazzoli la salvezza della Spal si parla di Andrea che lo vediamo in questa foto il direttore generale di Reggino fra gli artefici di permanenza in Serie A degli estensi sono scatenati allora casò la fust mia amica Dio perché Nadia non fai una partita di addio alla palata il tè? ma sull'addio adesso parliamo sulla partita di addio non è mica non sarebbe una organizzazione una sera qualcosa non lo so adesso tanto tanto ti vogliono a capannoli gli amici della Nostolini loro ti vorrebbero anche giocare da quel punto di vista di fare il Gione invece ha detto confronto sicuramente mi metto un atto e poi poi fate voi Nadia siamo in fondo siamo arrivati in fondo è stato un grande complimenti per tutto che hai fatto le gioie che hai regalato a tutti i sportivi perché credo di poterlo dire senza nessuna esagrazione è stato ovviamente un bel biglietto da visita per Lucca per la nostra provincia per la nostra città queste sono le cose positive le cose che portano bene in giro il nome della città di Lucca e del nostro territorio in giro per il mondo bocca al lupo per tutto quello che fai sia pallavolo sia extra pallavolo come ci hai detto grazie grazie a Nadia Centoni di essere stata con noi vi ricordo questa sera l'intervista nel TG9 Sport ringraziamo anche i due registi Matteo Pedini e Giorgio Pucci e domattina avremo un ospite tornerà a trovarci Simone Tonieri l'altra volta è venuto per presentarci un suo libro questa volta si è dedicato molto adesso alle vignette alle vignette dice che ce ne porterà un bel po' saranno vignette satiriche vediamo un po' quello che ci fa domattina Simone Tonieri appuntamento alle 8.30 grazie di nuovo a Nadia buongiorno a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti